Anche un nightclub della bassa valle al centro dei controlli del nucleo carabinieri spettorato del lavoro di Sondrio che lo scorso anno ha sottoposto a verifiche 145 aziende della nostra provincia. 24 le denunce in stato di libertà per violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Elevate sanzioni amministrative per 90.000 euro, quasi 62.000 di ammende e la sospensione dell'attività imprenditoriale per sei attività che impiegavano forza lavoro in nero superiore al 20%. Fra queste un night della bassa valtellina dove erano presenti sei giovani figuranti di Sala dell'Europa dell'Est, extracomunitarie, impiegate senza contratto di lavoro giunte in Italia con visto turistico. Stando a quanto stanno appurando i carabinieri ci sono vere e proprie agenzie ma anche singoli mediatori che reclutano le ragazze nel paese d'origine, le indirizzano in Italia con visto turistico e le mettono in contatto con gestori di night che rischiano parecchio, va detto, se scoperti. Basti dire che per il titolare dell'esercizio pubblico della bassa valle, oltre alla sospensione dell'attività, sono scattate sanzioni ed ammende per circa 45.000 euro. 3.800 euro sono stati combinati anche ad un altro gestore di night nel quale è stata scoperta una singola figura extra way in nero. Tutte irregolari poi dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, anche le sei attività nei settori commercio e cura della persona controllate dai carabinieri e gestite da imprenditoria straniera per lo più asiatica. Sempre i carabinieri del comando provinciale di Sondrio, in una nota stampa, hanno dato conto di quattro arresti per droga effettuati a fine 2019. Il 28 dicembre a Dardeno sono stati bloccati due pregiudicati sondriesi di 22,55 anni, trovati con 15 grammi di eroina e uno di cocaina destinati allo spaccio. A Morbegno, invece, giorno 30, a finire nelle maglie dei militari un 24enne di origini marocchine senza fissa dimora, nulla facente irregolare sul territorio nazionale, intercettato con una bustina di cocaina di cui aveva cercato di disfarsi, oltre a un involucro con 28 grammi di eroina e 4.640 euro probabile provento di spaccio. Infine agli arresti è finito un 28enne pregiudicato di Castione Andevenno, scoperto a cedere un grammo di eroina ad una donna nel retro del parcheggio di un centro commerciale del luogo. Tutti e quattro gli arresti sono stati convalidati.